18 giugno 2011, Via dei 1130 a Pavia, è la festa del servizio formativo Il Borgo. La giornata si è aperta alle ore 15 con gli interventi e i saluti delle autorità. A seguire è stato il turno del percorso Natura e il linguaggio degli alberi con la partecipazione del gruppo di musicoterapia Madame Adoremi del civico istituto musicale Franco Vittadini, condotto dal maestro concertatore Roberto Aglieri. E' quindi stato il turno dell'animazione con Il Bosco Incantato e per l'occasione sono state allestite una mostra fotografica di Giuseppe Gregorelli dal titolo Flora e Fauna del nostro fiume ed eventi naturali sulla città e l'esposizione dei lavori realizzati dai ragazzi del servizio formativo Il Borgo e dei CDD Le Betulle, Il Naviglio e Il Torchietto. Assessore Senelli, buongiorno. Abbiamo visto che il tempo è stato clemente per questa giornata di festa. Ecco, lei che cosa ne pensa di questo momento così importante? Beh, ringraziamo il tempo perché è veramente stato eccezionale però è un tempo eccezionale per un posto eccezionale. La prima festa, che è la prima festa di primavera, ha una cornice degna proprio dell'avvenimento. Io penso che l'apertura e si può dire la riapertura di questo luogo ormai messo a posto, messo in ordine può essere anche a vantaggio per tutta la città, per momenti di aggregazione, per momenti anche di feste. E quindi è bello oggi festeggiare la festa di primavera con tutti i ragazzi dello SFA, con tutti i protagonisti ringraziando anche tutti gli operatori. Ed è bello anche restituire questo posto alla città perché possa capire e vedere quale bellezza anche c'è all'interno di questo spazio. Beh, auguro a tutti un buon divertimento, un buon proseguimento dentro della festa e anche buona domenica a tutti. Grazie 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 a tutti.